Quando gareggio? Prima della gara penso semplicemente alla gara, davvero alla gara quello che devo fare perché poi ovviamente c'è tutta una parte tecnica e di strategia soprattutto per me che faccio distanze lunghe. Quando poi parto e sento il via penso appunto solamente non tanto alle altre, alle altre avversarie, le guardo sicuramente però penso a me stessa, penso soprattutto alle sensazioni che ho. Quando invece passi praticamente dal sentire solamente te stessa e il tuo respiro e la tua fatica al sentire tutto il pubblico intorno a te. Sono 10-15 secondi che non si ripetono mai per nessun'altra ragione al mondo solo per questo.